Signori, e cominciamo con i primi campioni. I primi campioni italiani della danza allievi, ma già vice campioni del 1983 e medaglie bronzo del 1984, oggi campioni in carica della loro categoria. Si presentano e rispondono al nome di Manuela Giorgiutti e Massimo Tomasini. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.